Ragazzi, un saluto a tutti voi tifosi della Sagranitana, mio figlio mi chiesto di unirmi a voi in questo frammento di festeggiamento, io lo faccio volentieri per l'orgoglio che ci unisce di poter festeggiare un compleanno così importante con la Serie A, questo mi fa veramente piacere e onore e ovviamente poterlo fare in questa situazione è molto bello per tutti, sarebbe stato drammatico doverlo fare in Serie B, però insieme a voi abbiamo fatto credo una prolezza ripetibile nel calcio, quindi mi unisco a voi nella gioia e nei festeggiamenti però vi invito e vi esorto, tanto fidatevi della società perché la società farà tutto per mandare in campo una scuola competitiva, ma fin da ora vi dico non vi stordite di festeggiamenti, conservate non un brandello ma molto di più di energia perché quest'anno i campionati cominceranno prima, quindi la Sagranitana avrà bisogno immediatamente di voi, voi siete veramente un acquisto costante per la Sagranitana, siete una potenza in campo alla Reiki, quindi non sprecate tutte le vostre energie in feste e festiciole per il compleanno perché è già passato, concentratevi sul campionato che sta già iniziando perché poi vi prenderà in contropiedi, inizierà agosto quando tutti penseranno di essere in ferie, non ci sono ferie nel calcio, quindi vi esorto fin da ora a concentrarvi per il calendario che uscirà a breve, in bocca al lupo auguri per sempre alla Sagranitana, arrivederci!